Poi abbiamo questo active oxygen che sarebbe praticamente ossigeno che viene messo nella nostra pastura e ci permette praticamente quando noi facciamo le nostre bocce di pastura che calano sul fondo quando si scioglie la pastura dal fondo l'ossigeno crea delle bollicine che risale verso l'alto, praticamente crea una colonna fino a superficie di pastura e poi praticamente la pastura ricale poi verso il basso e ora andiamo a mettere il nostro active o oxygen nella nostra pastura mettiamo un po una bella miscolata siccome stamattina peschiamo in un fondo intorno ai 5 6 metri la pastura l'ho fatta parecchio dura cioè parecchio bagnata dura che in questa maniera mentre arriva sul fondo e si apre non voglio che ne si apra mentre scenda perché tanto la colonna diciamo di pastura in sospensione ce lo fa il nostro aditivo ciao